Ben ritrovati, questo è lo spazio di Italia Nostra, Italia Vostra, io sono Massimo Palladini e in questo nostro incontro faremo un esperimento veramente singolare e cercheremo di parlarvi, di descrivervi, ma di farvi apprezzare anche la importanza di un testo, di un volume, di un apprezzato studioso, un amico, il professor Adriano Ghisetti Giavarina, che è professore emerito di storia dell'architettura della facoltà di architettura dell'Annunzio, ma autore diciamo riconosciuto di studi palladiani, di studi anche che hanno riguardato estesamente l'architettura abruzzese e mi fa piacere di portare questo piccolo ma prezioso libro che è l'ultimo della sua produzione. Si è occupato, Adriano Ghisetti, di una famiglia di marmorali di Pesco Costanzo, i Cicco. Questa famiglia che opera a partire da questo paese, ma in tutto l'Abruzzo, è attiva da metà del 600 fino al primo ventennio dell'800 attraverso una serie di esponenti, naturalmente tra loro uno discendente dell'altro oppure cuginanze, incroci di parentela, ma insomma questi artigiani, che è riduttivo definire tali perché sono effettivamente arrivati a delle vette artistiche notevoli, hanno caratterizzato gli interni barocchi dei principali monumenti e chiese del loro centro di Pesco Costanzo e poi dopo di Aquila, di Sulmona, spingendosi fino ad Ortona e ad altri centri. Questi marmorali sono specializzati nella tecnica del marmo commesso, cioè in pratica della tarsia di marmo, quindi questi lavoratori con le tecniche che vi potete immaginare approntavano delle tavole istoriate, intarsiate, che trovavano poi collocazione negli arredi interni degli edifici di culto, ma non solo a questo si applicavano perché il mestiere naturalmente poi spesso trasmigrava in altre branche dell'attività artistica, come quella della scultura, del modellato, addirittura del disegno architettonico e della cura stessa della realizzazione di apparati architettonici importanti. Insomma, una presenza che qualcuno potrebbe definire minore ma che invece caratterizza fortemente un'intera stagione culturale ed artistica della nostra regione. Io nel dare il benvenuto ad Adriano Ghisetti Giavarina gli vorrei chiedere ma insomma questo Pesco Costanzo, questa famiglia Cicco, come riesce a raggiungere queste eccellenze e come la possiamo caratterizzare anche dal punto di vista stilistico della formazione dei riferimenti culturali. Grazie, innanzitutto voglio ringraziare per l'invito qui a Radio Speranza e salutare tutti i radioascoltatori. Ringrazio anche l'architetto Balladini che mi ha voluto accanto a sé in questa conversazione su questo tema che mi ha appassionato tanto appunto da arrivare a produrre questo libro. Mi dispiace che in radio non si possa vedere per la ricchezza delle immagini fotografiche dovute all'archivio della Carsa, editrice di Pescara, che veramente ha fatto un lavoro egregio dal punto di vista del recupero di tutte queste immagini e del trattamento tipografico. Per cui lo dico proprio perché non è una parte che ho fatto io, altrimenti sembrerei autoreferenziale, ma proprio la parte delle immagini è molto significativa. Venendo invece alla domanda, dobbiamo dire che la caratteristica di questi ciclo è che sono stati tra i primissimi, per non dire tra i primi, Giuseppe Cicco a metà del Seicento a portare in Abruzzo questa tecnica del marmo commesso. Una tecnica che si era affermata negli ultimi decenni del Cinquecento a Firenze presso i medici, tant'è vero che poi a Firenze nascerà in seguito l'Opificio delle Pietre Dure, che ancora opera, è un riferimento nazionale. E quindi proprio dalla Toscana ci sono alcuni maestri che diffondono poi in Italia questa tecnica. A Pesco Costanzo arriva un maestro lombardo, che però è stato attivissimo a Napoli nel Seicento fino a diventare il protagonista dell'arte, soprattutto scultura e architettura del Seicento napoletano, che è Cosimo Fanzago. Fanzago opera a Pesco Costanzo con la facciata del monastero delle Benedettine e con l'altare che sta nella chiesa di Gesù e Maria. E proprio questo altare, dove si vede un massiccio impiego del marmo commesso, diventa la scuola per Giuseppe Cicco e per i marmorari di Pesco Costanzo, che poi appunto, come diceva l'architetto, li porteranno a diffondersi in tutto l'Abruzzo, proprio per questa loro capacità non solo di scolpire, perché sono anche degli scalpellini scultori, possiamo dire, ma di questi c'era già una tradizione a Pesco Costanzo, ma poi diventano appunto anche marmorari e attraverso la composizione di questi marmi di vari colori riescono appunto a creare delle opere che sono molto tipiche del gusto barocco alla fine. E quindi diciamo che dal tardo rinascimento della Toscana al barocco napoletano e infine anche al barocco in Abruzzo. Questo è un po' il percorso che porta i Cicco ad affermarsi. Quindi diciamo che questi artisti hanno preso dei modelli, che sono modelli che diciamo la cultura architettonica, attraverso questi protagonisti nazionali, aveva già diffuso e li portano ancora più avanti. Già noi abbiamo avuto tutta la fase dei campanili, delle chiese romanico-gotiche, che hanno usato queste maestranze, questa specie di clerici vagantes, che ci sono venuti a insegnare delle tecniche, a portare dei modelli, e quindi continua questa tendenza. Ma i prodotti fatti dai Cicco sono di una qualità estrema. Veramente vale la pena di visitare queste chiese di Pesco Scostanzo, certamente, ma poi le trovate appunto a Sulmona, dove ancora mi sembra che i principali sono a Revisondoli, no, eccetera. Insomma, è veramente, sarebbe un percorso da tracciare, perché è una maniera di sottolineare delle architetture che veramente è improprio definire minori. Noi dobbiamo riportare naturalmente questi prodotti anche al tempo, questo tripuglio di colori, eccetera, e poteva essere ottenuto intanto con questi marmi pregiati in piccolissime quantità da reperire probabilmente sul mercato romano o sul mercato pugliese, insomma, e poi con delle tecniche che sono tutte manuali per arrivare poi ad una composizione che sembra, come devo dire, nata sullo stesso piano, quasi grafica, no, come se dipingessero con la pietra. È un po', dicevamo, nella presentazione del libro che abbiamo fatto a Italia Nostra, è un po' come se si volesse fermare nella pietra la festa barocca, no, la parte più temporanea dell'allestimento floreale dei festoni diventa pietra e quindi diventa, diciamo, si eternalizza nel luogo del culto. Pesco Costanzo, Pesco Costanzo si trova sulla nostra montagna, insomma, naturalmente sulla via per Napoli, però, insomma, in un enclave dove sostanzialmente la pastorizia è la base principale della economia. Tuttavia, appunto, sia per il suo impianto urbanistico, sia per la qualità dei suoi palazzi, sia per le eccellenze artistiche che riesce ad esprimere, questo paesino, insomma, gareggia con le capitali dell'Appennino. E questo, appunto, Adriano, come mai si può dare questa concentrazione di saperi e di risorse anche? Beh, oddio, sicuramente ci sono dei motivi economici, però, forse, prima ancora dei motivi economici, potremmo partire da un terremoto, il terremoto del 1456, che per Pesco Costanzo, come per tanti altri centri dell'Italia meridionale, è stato devastante e quindi, come al solito, accade dopo gli terremoti, c'è stata una ricostruzione. Questa ricostruzione è stata portata da maestri lombardi e quindi, dove c'è da lavorare, questi maestri si spostano ed arrivano. E questi maestri lombardi portano a Pesco Costanzo delle loro attività tradizionali. E non parlo solo della lavorazione della pietra, ma anche, per esempio, del merletto. Si parlava tempo fa del fatto che... Il tombolo, no? Tutte queste... L'uso del tombolo, appunto, sarebbe venuto dal bergamasco. Non sono uno specialista, per cui non mi sento di dire di più. Però, sicuramente, queste maestranze che si trasferiscono a Pesco Costanzo, anche in altri centri, però a Pesco Costanzo, evidentemente, in maniera cospicua, come hanno dimostrato i documenti, pian piano formano questa rete di collaboratori del posto. E quindi anche essi riescono ad imparare, ad affermarsi. Devo dire che quello che mi ha colpito, anche di questi maestri, e nel libro ci sono degli esempi, è la loro capacità di disegnare. Loro fanno dei disegni veramente di alto livello, che sono anche di opere di scultura, come la fontana di Pesco Costanzo. Fanno presupporre anche una scuola, perché una tecnica così raffinata... Esattamente. E infatti c'è un documento che spiega proprio come Donato Rocco Cicco va a scuola e il padre si sacrifica per farlo studiare. E quindi sapevano quello che facevano, insomma. Quindi diciamo che è un rapporto padre-figlio, ma non è solo la bottega. C'erano anche degli studi da fare. E poi un altro aspetto che abbiamo messo in luce nella presentazione a cui facevi riferimento è quello delle stampe, della circolazione delle stampe, e per cui noi vediamo la facciata dell'abbadia morronese di Sulmona, diciamo la sede madre dei celestini, dell'ordine celestini, che nel Settecento ha questa facciata praticamente identica a San Carlino e le quattro fontane di Borromini. E questo si spiega con le stampe in possesso di Donato Rocco Cicco, l'autore della facciata. Vedete come questi nitire rari, come devo dire, culturali, sono significativi. Ed è anche una maniera... Per quanto noi diciamo il manierismo, dobbiamo capire che non c'è solamente un fatto concettuale, è proprio una diffusione, diffusione degli archetipi, delle invenzioni. Pensiamo a Borromini, pensiamo ad un autore, tra l'altro anche lui, un immigrato, perché era uno svissero che all'epoca non era proprio un privilegiato, come sarebbero diventati poi. E questo autore certamente è uno dei massimi inventori di forme in quel periodo, ha il suo antagonismo con Bernini, naturalmente, ma la chiesa di San Carlino e le quattro fontane è proprio un... è una tenzone fra lo spazio esterno e lo spazio interno, insomma, è la pellicola che, diciamo, viene deformata dalle tensioni del progettista. Quindi è chiaro che in un contesto diciamo provinciale una forma del genere, anche se semplificata, viene utilizzata proprio per esprimere il massimo della importanza dell'organismo che si manipola. E questo che mi dici, intanto, ha già trasportato i cicco nella dimensione architettonica, cioè sono responsabili anche di episodi architettonici, come fino addirittura fino all'ultimo della dinastia, perché le edicole di San Bernardino sono... che, diciamo, accompagnano la scalinata di fronte a San Bernardino sono appunto dell'ultimo dei cicco. Faccio un'altra notazione su questa cosa del berletto e del tombolo. Effettivamente ci sono molte tecniche che noi importiamo ma poi, data la nostra, come devo dire, capacità di elaborare, diventiamo, è il mercato del resto che lo chiede, diventiamo esportatori, no? I corredi di tutta Italia sono stati ordinati alle signore di Scanno, di Pesco Costanzo, eccetera, fino a, diciamo, ai primi del Novecento. Oppure, se pensiamo alla bachicultura che è nata in Romagna, da quelle plaghe, e però a Città Sant'Angelo, le bigattiere, perché erano lavorazioni che si integravano anche alle economie agricole, perché c'erano le donne che magari, cioè loro facevano l'uno e l'altro, facevano il lavoro dei campi, ma poi anche quello dei bag. Insomma, c'è un millier di lavoro che cerca anche le proprie punte di eccellenza e spesso le trova. Io mi fermerei qui per dare spazio allo stacco musicale, e ci risentiamo fra un po'. Sì, vorrei rubarla vorrei rubare quello che mi apparteneva sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo ora alla bocca piena di biglietti del museo del museo Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora Mona Lisa Mona Lisa Lisa Mona Lisa Mona Lisa Lisa Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa Allora, torniamo a parlare di questo Pesco Costanzo ma è naturalmente un'intera area che è coinvolta in questa economia della qualità diciamo, no? Adesso nell'intervallo ricordavamo che nella vicina Scanno per esempio l'oreficeria naturalmente anche lì il tombolo ma l'oreficeria ha fatto scuola la presentosa e altri gioielli che di cui tutti noi sappiamo insomma in molte case ci sono eccetera sono proprio una rielaborazione di modelli di origine napoletana prevalentemente ma diciamo raffinati da una particolare capacità dei nostri dei nostri artigiani ma non solo ma noi anche i Cicco sono stati impegnati in questo abbiamo sviluppato una grande una elevata qualità nella lavorazione del ferro battuto alcune cancellate sapete quelle cancellate interne alle chiese che proteggono le cappelle delle cappelle particolari e sono dei pezzi di scultura veri e propri insomma e quindi voglio dire è una intera diciamo gamma di prestazioni spesso sussidiarie e di complemento dell'architettura che poi nei casi come quelli dei Cicco di eccellenza si integrano perché dicevamo sono state fatte fontane edicole esterne e soprattutto queste balaustre no? noi quando andiamo in queste chiese soprattutto barocche che sono dei piccoli paesaggi interni insomma che noi dovremmo riuscire ad apprezzare di più vediamo queste colonnine tornite eccetera e questo è tutto un accumulo di diciamo di competenza e di gusto che veniva apprezzato anche dai clienti no? vero? per cui si determinava un circuito virtuoso fra domanda ed offerta che per due secoli e mezzo diciamo ha prodotto grandi oggetti e dicevamo questo fenomeno di Pesco e Costanzo si inserisce nella famosa via degli Abruzzi che cos'è e perché è così importante? sì della via degli Abruzzi parla già Giovanni Boccaccio in un romanzo che si chiama Filocolo nome del protagonista e qui viene descritta in maniera nemmeno tanto nascosta proprio tutta la via che si compiva per raggiungere Napoli da Firenze o viceversa insomma quindi questa strada altamente commerciale evitava di attraversare le paludi pontine quindi era preferita questa via penninica che toccava Firenze Siena Perugia L'Aquila e poi attraverso la valle su Bequana arrivava sul Mona da lì saliva ai cosiddetti altipiani maggiori dove c'è Roccaraso e dove c'è Pesco Costanzo per poi scendere a Castel di Sangro Isernia Venafro Capua Versa in Napoli insomma queste erano le tappe diciamo più significative di questo percorso un percorso molto molto frequentato per cui già dal 300 vediamo che ci sono maestri toscani che arrivano in Abruzzo oppure addirittura opere letterarie della Toscana che arrivano in Abruzzo quindi veramente una strada molto importante dal punto di vista culturale e così anche per il mondo artistico del 500 o del 600 pensiamo che in quel momento Pesco Costanzo è un paese molto ricco proprio per l'attività armentizia ma anche commerciale per il gran numero di botteghe segno che c'erano molti personaggi di passaggio che avevano bisogno di tutte queste attività artigiane per cui magari riuscivano a esportare o un gioiello o semplicemente un paio di scarpe in effetti questa strada era una direttrice che era anche di tipo economico oltre che di scambio di flussi culturali che proprio poi si biforcava perché naturalmente da una parte andava verso il napoletano perché si incrociava con la transumanza esatto e poi dall'altra andava verso Brindisi e quindi si collegava anche a diciamo a una direttrice verso l'Oriente e quindi indubbiamente essere uno snodo di questa diciamo catena di rapporti ha giovato anche se mi viene in mente che Boccaccio anche un'altra volta ha citato l'Abruzzo ha citato a proposito della beffa a Calandrino quando gli fecero insomma credere che c'erano delle pietre magiche che lui doveva raccogliere e per dire dove erano erano lontane eccetera sì più in là che in Abruzzo per dire che era un posto lontano questo per dire che questo Abruzzo da una parte era vicino perché era oggetto di scambio ricordate che i medici erano non solo banchieri ma erano anche dei produttori dei commercianti di tessuti e naturalmente l'Abruzzo era la loro prima fonte di approvvigionamento insieme alla stessa Toscana perché anche la Toscana è stata terra di pastorizia insomma ecco allora voglio dire questo vi fa capire come noi che siamo della costa e siamo un po' abituati a vedere ormai che la direttrice adriatica un po' a assorbere la gran parte dei traffici eccetera dobbiamo immaginarci invece un Abruzzo dove la costa era paludosa o boschiva e poi voglio dire aveva dei centri nessun centro sulla costa ma tutti collinari anche per ragioni di autodifesa contro il Saraceno che poi è arrivato molto spesso è arrivato a distruggere insomma fior di centri rivieraschi e quindi c'era questo testamento collinare degli insegnamenti e invece c'era una come devo dire un'asse economicamente importante che era proprio l'asse appenninico insomma attraverso naturalmente dei valichi eccetera e nelle plaghe nelle pianure poi si diciamo diffondevano i centri degli scambi insomma questa realtà del barocco abruzzese è sicuramente minore rispetto a altre realtà però permia di sé la gran parte degli edifici minori di culto eccetera noi abbiamo la nostra grande stagione romanico-gotica della colonizzazione come devo dire degli ordini monastici eccetera ma il barocco secondo me non va sottovalutato e dà indubbiamente le sue maggiori espressioni proprio negli interni ecclesiali fantastici i cicco hanno diciamo come si è estinta ecco la la dinastia per ragioni diciamo di familiare oppure perché proprio era cambiato il gusto era cambiato la no gli ultimi cicco si erano adeguati al gusto già diverso dell'ottocento anche se da noi anche nell'ottocento si trova un barocco si trova le forme perché noi siamo un po' siamo sempre un po' tardati seguiamo seguiamo ma io credo che poi si sia estinta o per motivi familiari appunto oppure perché hanno cambiato attività però io non ho trovato notizie di cicco oltre la metà dell'ottocento quindi veramente non saprei dire qual è il vero motivo dell'estinzione di questa famiglia certo che sono stati dei grandi protagonisti del barocco non a partire dal Settecento perché in Abruzzo due terremoti 1703 l'Aquila 1706 sul Mona hanno comportato sul Mona ma vuol dire Maiella hanno comportato poi delle ricostruzioni e quindi delle innovazioni con l'arrivo di maestri di cultura barocca ma in realtà i cicco lavorano per conto sul disegno di Bedeschini che è uno dei protagonisti del Seicento aquilano che porta il barocco già nel Seicento c'è stata tra l'altro una ricca mostra sui maestri Bedeschini all'Aquila con disegni venuti un po' da tutta l'Europa e appunto alcuni di questi disegni li devono trasformare in opere architettoniche di stucco e di decorazione nella cattedrale di Corfinio San Perino a Corfinio che aveva un apparato barocco venuto o meno coi restauri del 1970 Guarda questo cenno al terremoto come diciamo forzata occasione di rinnovo urbano effettivamente mi fa pensare che un po' anche a Colapietra che poi il nostro storico aquilano che recentemente un anno poco più di un anno fa è venuto a mancare abbiamo ricordato anche Pescara devo aggiungere che ha trovato molti documenti dei Cicco Colapietra ed è citatissimo in questo libro in bibliografia sì certo perché lui intanto era un poliedrico e poi era appassionatissimo delle cose della sua terra e quindi scavava andava alle fonti primarie come del resto anche Adriano spesso fa e cioè quel tipo di storia che non collaziona diciamo informazioni lette legittimamente ma insomma va alle verifiche no l'ho detto e lo voglio ripetere si arriva alla puntigliosità di Ghisetti arriva al punto che nelle note corregge un se stesso in una precedente pubblicazione perché ha trovato un'altra fonte che gli permette una migliore attribuzione quindi questa va detto ma dicevo Colapietra ha sempre pensato a questa tragedia collettiva come un'occasione di ritrovarsi come comunità di produrre un progetto che è dello spazio urbano ma è anche di una modalità di convivenza eccetera ecco effettivamente insomma noi non viviamo più con quello spirito ecco queste tragedie che naturalmente dal punto di vista emozionale della solidarietà certamente ci tengono uniti ma che poi diventano ecco un terreno un po' amorfo no di edilizio ecco soprattutto mentre invece dobbiamo dare atto c'è un bel libro per esempio di Giovanni d'Alessandro se un dio pietoso è ambientato a Sulmona proprio dopo il terremoto di Sulmona dove c'è questa vicenda di questo scultore barocco che vive lì una sua personale tragedia umana insomma per dire cioè che sono i momenti in cui insomma la collettività è chiamata a ritrovarsi insomma professor Chisetti amico Adriano noi dobbiamo continuare su questa strada perché ci hai veramente intrigato su questo livello di approfondimento perché di solito noi voglio dirlo anche gli ascoltatori insomma San Clemente a Casauri a Collemaggio la collegiata insomma andiamoci a vedere il nostro patrimonio minore noi come Italia Nostra dobbiamo organizzare anche noi di più questi itinerari renderli leggibili insomma anche al non addetto ai lavori ma è una strada sulla quale cercheremo di impegnarti ringrazio il professor Chisetti e gli do appuntamento grazie a te grazie a tutti gli ascoltatori arrivederci